Ci sarebbero questioni personali dietro l'omicidio russo a Foggia. Gli investigatori escludono la criminalità organizzata e caccia l'assassino. Lunghe code negli hub in occasione dell'open day per le somministrazioni anti covid in età pediatrica dai 5 agli 11 anni. Importante accelerare sui bambini ha detto il direttore generale dell'ASDA Bari Antonio Sanguedolce. Dagli effetti del governo Draghi alle dimissioni dei big della giunta l'opalco ebrai passando per la scalata alle politiche. I fatti salienti della politica regionale pugliese. Ben ritrovati con un nuovo appuntamento dell'informazione di Antenna Sud. Andiamo subito a vedere quali sono i fatti più importanti riferiti al nostro territorio per la giornata odierna. Partiamo dal caso russo. Si stanno concentrando su un presunto giro di furti di auto. Le indagini dei carabinieri coordinati dalla procura di Foggia sull'omicidio di Pietro russo 32enne ucciso a colpi di pistola nella sua abitazione in via Lucera a Foggia nella serata di martedì 28 dicembre. Caccia all'assassino intanto emergono ulteriori dettagli e si esclude la pista della criminalità organizzata mentre si parla di una vendetta personale. Partiamo di qui. Emergono ulteriori dettagli nell'ambito delle indagini sul caso russo. Stando a quanto ricostruito fino a questo momento l'omicidio non sarebbe legato alla criminalità organizzata. Si ipotizza una vendetta per questioni personali. E' questa la pista seguita dagli investigatori coordinati dal PM Vincenzo Baffundi della procura di Foggia. Pietro russo 32enne era solo in casa in via Lucera al momento dell'agguatto raggiunto al torace da diversi colpi di pistola. I bossoli dell'arma calibro 9 sono stati ritrovati sull'asfalto davanti all'abitazione dell'uomo. Sua moglie e i quattro figli erano usciti da poco. La vittima forse avrebbe aperto la porta al suo assassino ma i residenti del quartiere hanno riferito di non aver visto nulla. Si lavora ora sulle immagini acquisite dalle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona mentre sono 5 le persone sottoposte allo stub da parte dei carabinieri per verificare l'eventuale presenza di polvere da sparo su pelle e indumenti. Intanto si scava anche nel passato di russo. La vittima aveva precedenti penali per reati contro il patrimonio e furti di auto. Sono già 10 le persone ascoltate per cercare di risalire ai responsabili. Abbiamo argomento lunghe code negli hub in occasione degli open day per le somministrazioni delle dosi anti covid in età pediatrica tra i 5 e gli 11 anni. Importante accelerare sui bambini ha detto il direttore generale della ASLA Bari Antonio Sanguedolce. Noi siamo stati a Treggiano. Lunghe code di attesa al lab di Treggiano nel Barese per le dosi anti covid in età pediatrica. Si tratta di una delle giornate open day individuate dalla ASLA per incrementare le somministrazioni nei bambini dai 5 agli 11 anni. Non pensavo di trovare questa situazione sinceramente. Avrei preferito naturalmente prenotare e essere un po' più puntuale perché se non rischiamo il covid rischiamo l'influenza oggi. Se era più organizzata era meglio almeno definire quanti vaccini dovevano somministrare perché rischiamo di fare la coda ma facciamo prendere freddo i bambini ma in realtà non possiamo godere di questo beneficio. Diciamo che non è una cosa piacevole. Fortunatamente c'è il tempo dalla nostra parte perché per i bimbi è un peccato. Scusa che cosa mettete a fare l'oraro dalle tre e mezza alle cinque e mezza. Dite dalle due, dite dall'una e mezza che le persone si sono presentate a quell'ora e hanno già fatto. No che ora arriviamo noi e ci mandate indietro con tutta la coda che sta. Non esiste proprio. Dobbiamo cercare tutti quanti di tutelarci e di restare tutti fedeli al fatto del vaccino. È importante farlo affinché si possa scongiurare più possibile ulteriori contagi. Dalle tre meno un quarto. Bambina di cinque anni tenerla tutto questo tempo in attesa. È complicato. La priorità è andare veloce e accelerare i tempi delle inoculazioni per i bambini, ha spiegato il direttore generale dell'Asla Bari Antonio Sanguedolce. Oltre a Treigiano, l'open day sta interessando la città di Mola. È ancora Molfetta e Conversano. La proclamazione a Sportello proseguirà anche a gennaio. Ce la stiamo mettendo tutta e abbiamo aumentato il personale sia infermieristico che medico. Sono ottimista. Oltretutto vedere tanta gente che si sta vaccinando è un messaggio veramente eccezionale. Quindi io sono il primo a essere contento. Poi naturalmente l'attesa è chiaro che è snervante, però l'essenziale è raggiungere l'obiettivo. Dobbiamo vaccinare. Passiamo sul tema Copertino, provincia di Lecce. La variante Omicron si diffonde a macchia d'olio. I casi di positività al Covid tra i residenti è salito a 410, soprattutto nella fascia di età compresa tra i 17 e i 27 anni. L'ha annunciato la sindaca Sandrina Schito in un post sulla pagina Facebook del Comune dove spiega che si tratta di soggetti asintomatici oppure con sintomi lievi, soprattutto raffreddore e in pochi la febbre. Molti commercianti titolari di bar hanno deciso di chiudere le proprie attività per evitare possibili assembramenti e sono state due feste organizzate da studenti per scambiarsi gli auguri in vista del Natale a scatenare questo focolaio di 410 contagi a Copertino. Le feste sono state organizzate entrambe il 22 dicembre e hanno partecipato in tutto 70 persone che poi una volta contratto il virus hanno incontrato altri amici e parenti diffondendo così il contagio. Invece sempre sul tema e allarme nella BAT in particolare a causa dell'incremento dei casi positivi a Covid, la direzione dell'ASL ha disposto il blocco dei ricoveri ordinari dall'ospedale Vittorio Emanuele di Bisceglie. Ci sono 21 pazienti ricoverati, fortunatamente nessuno in rianimazione, ma Alessandro Delle Donne, commissario straordinario dell'ASL-BAT, ha spiegato che si tratta di una situazione transitoria, però una disposizione necessaria per essere pronti a qualsiasi evenienza. In questi ultimi giorni, come è noto, spiega Delle Donne, il numero dei casi positivi è aumentato e anche il numero dei pazienti ricoverati ha avuto un leggero incremento, di cui la decisione di sospendere i ricoveri ordinari. Adesso invece facciamo il punto con i contagi da Covid complessivi nella nostra regione col bollettino. Vi mostriamo l'infografica. E dunque, come vedete, sono 2.885 i nuovi casi a fronte di 73.310 test giornalieri, 7 i decessi, sono 16.035 le persone attualmente positive, 227 quelle ricoverate, di cui 203 in area non critica e 24 in terapia intensiva. Torniamo sul caso l'erario. Anche la Lega apre il fuoco all'indirizzo del governatore della Regione Puglia, Michele Emiliano. Il governatore spieghi o saremo pronti a scendere in piazza, fanno sapere i leghisti. Nelle prossime ore intanto Fratelli d'Italia annuncia che tornerà a chiedere una commissione di indagine. Sentiamo. Emiliano spieghi oppure scendiamo in piazza? Due binari distinti, ma il caso l'erario, inteso come ex numero uno della protezione civile, finito travolto dal terremoto giudiziario, tiene aperta una breccia tutta politica in Consiglio regionale. Nelle prossime ore saranno i fratelli d'Italia a chiedere una commissione di indagine per fare chiarezza. La conferenza stampa è convocata all'esterno del Palazzo di Via Gentile, nonostante gli azzurri non abbiano nascosto di preferire un'accelerazione nella commissione di contrasto alla criminalità la guida Renato Perrini, ed è già convocata per il 10 gennaio prossimo. Nel frattempo è la Lega ad allinearsi. La nota porta la doppia firma del capogruppo, Davide Bellomo, del segretario regionale Roberto Marti. Parlano di problema di cultura della legalità in regione, davanti al quale il governatore non può girare la testa. Chiedono provvedimenti e una proposta nella massima assise. Diversamente spiegano, a gennaio sarà una manifestazione a ribadire le posizioni. Nell'escorsione la mail del capo della Giunta, con la quale si è ribadita la roadmap che ha portato all'avvicendamento con Nicola Lopane al vertice della protezione civile, ma anche la richiesta di massima allerta. Gennaio potrebbe essere il mese dell'insediamento del prossimo assessore alla salute, PD e 5 Stelle. Hanno già sbarrato la strada all'ex capogruppo azzurro, Roccopalese. Restiamo in regione per raccontarvi questo ultimo anno di politica, dal trattamento di fine mandato dei consiglieri, agli effetti sull'insediamento del governo Draghi, passando per gli AD illustri. Ecco allora un riepilogo della Giunta di Via Gentile. Il 2021 della politica era cominciato con l'approdo di Rosa Varone tra i banchi della Giunta, con i gradi di assessore al welfare. La pattuglia pentastellata in consiglio si spacca sul bilancio, poi si ritrova sull'attesa di un voto di convalida sul Rousseau, che non ci sarà. Febbraio è il mese del governo Draghi, che spazza via in un colpo solo il tormentone del non meglio precisato partito di Michele Emiliano sulla scorta dell'altrettanto non precisato partito di Giuseppe Conte. Per ritrovare quel filo rosso bisognerà aspettare l'estate la promozione a movimento della lista con. Sarà il polline tra il PD e 5 Stelle, dirà il governatore. Emiliano chiama Beppe Sala ai Verdi Europei. A fine anno lancia la scalata alle politiche con la Convention dei Civici, con buona pace dei democratici, che nel frattempo si dividono sul congresso a colpi di ricorsi e lo congelano fino a dato da destinarsi. L'estate passa a discutere di trattamento di fine mandato per i consiglieri in via gentile, reintrodotto con un emendamento ad hoc nell'ultima seduta prima della pausa, finisce nel fuoco incrociato e poi abrogato all'unanimità nella prima sessione di fine settembre. La seconda parte dell'anno è quella degli addi illustri all'esecutivo, Pierluigi Lopalco prima dalla salute, Massimo Braipoi da cultura e turismo. Motivazioni diverse, stesso scrano vuoto, ancora da riempire per entrambi e poi i sindaci. Crolla l'amministrazione Landella a Foggia con il Consiglio Comunale sciolto per infiltrazioni della criminalità, ma cadono anche Mino Cannito a Barletta e Rinaldo Melucci a Taranto. Nel primo caso in pista resta la safety car del commissariamento, negli altri due la campagna elettorale è già cominciata con o senza le bollicine. Ci fermiamo per qualche istante e torniamo tra poco con altre notizie. Restate con noi.